Il Paradisi delle Signore, Roberto Farnesi non esclude un ritorno futuro di Vittorio Conti. Roberto Farnesi non esclude un ritorno di Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti nel futuro del Paradisi delle Signore. La soap opera di Rayuno è stata confermata per una nuova stagione che andrà in onda a partire dal prossimo settembre in prima visione assoluta e sarà la prima senza lo storico proprietario del grande magazzino milanese. Un addio che ha sorpreso i fan e che, recentemente, ha ispirato anche Farnesi a dedicare un pensiero speciale al suo amico e collega. Ripartono le riprese del Paradisi delle Signore 9 senza Alessandro Tersigni da questo lunedì mattina e i protagonisti della soap opera di Rayuno si sono ritrovati sul set per girare le puntate inedite che andranno a comporre la nona stagione. Tra i volti di spicco continuerà a esserci Roberto Farnesi nei panni del temotissimo commendatore Umberto Guarnieri. Così come tornerà anche la Contessa Adelaide di Santerasmo, interpretata da Vanessa Gravina. La cui messa in onda è prevista dal lunedì 9 settembre nella fascia del primo pomeriggio. Non ci sarà, invece, Alessandro Tersigni, l'attore ha scelto di prendersi un periodo di pausa dal set ammettendo di voler sperimentare nuovi personaggi. Roberto Farnesi non esclude un ritorno futuro di Vittorio Conti nella soap un addio alla scena che ha motivato Farnesi a dedicare, in queste ore, un pensiero speciale al suo amico e collega, lasciando trasparire la possibilità di un futuro ritorno di Vittorio Conti nella serie. Si ricomincia con grande gioia e un velo di tristezza, perché oltre che un professionista manca un amico, ha scritto Roberto Farnesi postando uno scatto che lo ritrae proprio assieme a Tersigni sul set della soap opera di Rai 1. Come si dice, the show must go on. Ma anche, never say never, ha proseguito ancora l'attore di Umberto Guarnieri. E, con quel mai dire mai, sembrerebbe proprio che Farnesi non abbia escluso a priori un possibile ritorno futuro del suo collega nel cast della soap, dove tornerebbe a vestire i panni di Vittorio. Vittorio Conti era scappato via da Milano assieme a Matilde Frigerio l'annuncio di Alessandro Tersigni, che ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal set del Paradisi delle Signore. Ha colpito particolarmente i fan, molti dei quali si sono detti dispiaciuti di non poterlo più vedere nella nona serie. Vittorio era uscito di scena dopo la sua fuga da Milano assieme alla compagna Matilde Frigerio, sulla quale pendeva una denuncia per adulterio da parte del marito Tancredi. Pur di non vederla finire in carcere, Conti ha scelto di partire con lei e trasferirsi ad Amsterdam, dove hanno intrapreso il loro nuovo percorso di vita assieme.